Via Libera ha la seconda edizione del premio letterario per le antiche vie, promosso dall'omonimo Circolo d'Arte e di Cultura, patrocinato tra gli altri dalla provincia di Pordenone e presentato questa mattina nella sala stampa dell'ente di Largo San Giorgio. Fino al 6 luglio sarà possibile inviare un racconto inedito breve seguendo le istruzioni dettate dal bando di concorso consultabile su www.perleantichevie.it. A illustrare il tema del premio letterario, il presidente del Circolo per le antiche vie, Vittorio Comina. Il tema è Viaggio in Friuli-Venezia-Giulia, raccontare una regione molto speciale. Il nostro premio è molto legato al territorio, quindi come ambientazione, anche se come poi svolgimento è libero, nel senso che si possono raccontare storie reali o basate su fatti reali, ma anche storie di fantasia, quindi inventate dall'autore. Per le antiche vie credo sia un interessante documento. Parla del territorio, parla della nostra identità. Questo rientra anche in un grande lavoro che la provincia sta facendo per rivalutare l'identità del territorio, proprio in questi momenti dove c'è bisogno più che mai di riscoprire quelle che sono le nostre genti, i nostri territori e soprattutto la nostra identità. Il concorso, che verrà presentato al pubblico sabato 23 febbraio alle 16 a Palazzo Toffoli, premierà i tre migliori manoscritti, con degli assegni da 600, 300 e 150 euro.